Musica Fiamme sul Vesuvio, c'è la svolta, identificato e arrestato il piromane, è un 24enne di Torre del Greco. Asciccia dalla Spagna, sequestrati 180 kg nel Nolano, sequestro della Guardia di Finanza. Rissa durante compleanno, muore a Benevento, il 32enne aggredito, la lite in un ristorante, fermato il 27enne accusato di omicidio. Ancora un alterco in corsia, aggredita una dipendente dell'ospedale Ruggi di Salerno. A Dragoni un corteo per non dimenticare Maria Tino, immagini e interviste nell'appunto subito dopo il Tg. Commissione di vigilanza effetto a sopralluogo allo stadio di Benevento. Vigorito, quasi pronto per la prima di campionato, gara di riscaldamento di Coppa Italia il 12 agosto. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV. Ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni. È stato identificato e arrestato dai carabinieri l'autore dell'incendio che ha distrutto 10.000 metri quadrati di Parco Nazionale del Vesuvio. Sono stati i carabinieri a stringere le manette ai polsi di Leonardo Orsino, 24 anni di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine. Il servizio. Il motivo del rogo appiccato? Pare che l'uomo da quello che si vince provasse piacere nel vedere le fiamme. È un piromane in senso stretto, un uomo con la passione per il fuoco. Il 24enne arrestato nella notte dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in sinergia con i carabinieri forestali. A confermare il profilo del giovane residente a Torre del Greco, Emanuele Corda, comandante dei carabinieri di Torre del Greco, di professione macellaio, alcuni precedenti per reati predatori e detenzioni di armi. Il 24enne non avrebbe legami con i clan che operano nei comuni del Vesuviano. Escludiamo il coinvolgimento della criminalità organizzata, precisa il comandante dell'arma, aggiungendo che le indagini proseguono per individuare altri autori dei roghi che hanno distrutto il Parco Nazionale del Vesuvio. Il lavoro sinergico condotto dai carabinieri e dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata, commenta il comandante Costa, ci ha permesso in tempi celerissimi di individuare l'autore di un vasto incendio sul Vesuvio. Il lavoro continua su questa linea. Il 24enne intanto è stato fermato sulla base di fonti testimoniali, gli indizi raccolti, di telecamere e di attività di natura tecnica, che ci ha permesso, continua il comandante, di individuare indizi schiaccianti per arrestarlo. Il giovane macellaio, la sera del 14 luglio scorso, si sarebbe recato in una pineta e con un semplice accendino avrebbe dato fuoco alla vegetazione. Un rogo che ha poi provocato la distruzione di 10.000 metri quadrati di Parco Nazionale del Vesuvio. La pineta in questione si trova a pochissima distanza dalla sua abitazione. Anche l'appartamento della sua famiglia, infatti, è stato lambito dalle fiamme, ma i carabinieri escludono che il rogo fosse stato appiccato proprio per distruggere l'appartamento. La famiglia, spiega il capitano dell'arma, non ha in alcun modo collaborato alle indagini. La madre del 24enne in particolare ha cercato di fornire un alibi al giovane, poi risultato falso. Ed altre due persone sono state sorpresi ad innescare incendi. Sono state ovviamente denunciate dalla Polizia Municipale, ma questa volta a Giuliano. La prima è stata sorpresa a località Carrafiello, mentre aveva acceso delle fiamme. La seconda è stata sorpresa in via San Francesco a Patria ad appiccare diversi incendi di sterpaie. Entrambi sono stati inoltre sanzionati ai sensi dell'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Poziello. Per contrastare gli incendi, la Polizia Municipale ha istituito un servizio di controllo notturno, soprattutto nelle aree periferiche. Ashish, proveniente dalla Spagna, sequestrati 180 kg nel Nolano. Sequestro della Guardia di Finanza nel servizio. 180 kg di Ashish, provenienti dalla Spagna e nascosti tra lastre di gomma per realizzare calzature, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Scuola Mobile della Questura, presso una società di logistica dell'area Nolana, che al momento non si imberebbe coinvolta nel traffico di droga. Il sequestro seg, quello più ingente, è avvenuto solo a fine giugno, quando le fiamme gialle scoprirono un'altra partita di sostanze stupefacenti. 640 kg tra Ashish e marijuana, nascosti in barili di plastica, sempre proveniente dalla penisola iberica, e spedita presso un'altra società di logistica. Gli inquirenti, grazie alle attività investigative portate avanti, hanno scoperto che i trafficanti di droga stanno utilizzando società di questo tipo dislocate nell'area Nolana, al momento risultate del tutto estranee ai fatti, per poter trasportare impunemente le sostanze stupefacenti da immettere nelle piazze di spaccio dell'Interlanda partenopeo. Questa volta i 180 kg di Ashish scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza e dalla Scuola Mobile erano nascosti in due pallette di lastre di gomma utilizzate per realizzare suole per calzature, all'interno delle quali era stato ricavato un vano dove erano stati sistemati i panetti di droga che avrebbero fruttato ai criminali che gestiscono le piazze di spaccio circa 2 milioni di euro. Arrestato per estorsioni, il boss Aniello Di Biase, considerato capo della fazione del clan Mallardo, denominato gruppo delle palazzine Di Biase, insieme ad altre persone, aveva preso di mira il titolare di un esercizio commerciale. Prima alla vittima furono chiesti 5 mila euro, la richiesta fu avanzata da un 22enne affiliato al gruppo delle palazzine e poi fu ucciso in un agguato lo scorso 21 luglio. Poi, dopo il rifiuto, l'imprenditore fu avvicinato da altri uomini del gruppo e anche dallo stesso Di Biase, all'interno della cui abitazione la vittima fu condotta. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera verso le 23 contro uno stabile di Torre Annunziata in Vicoluna. Il cancello è rimasto scheggiato, sul posto sono state rinvenute due ogive deformate in corso indagini della Polizia di Stato. Operazione questa volta dell'arma dei carabinieri ad Ischia contro il fenomeno dei fitti in nero e per la verifica di presenze malavitose sull'isola in questo periodo di vacanze. 10 riabitazioni controllate nel comune di Ischia e 7 in quello di L'Acquameno, per un totale complessivo di 62 persone occupanti. 29 le persone trovate in 8 abitazioni non dichiarate all'autorità di pubblica sicurezza. 8 i proprietari che sono stati denunciati per le violazioni di legge commesse. Rissa durante un compleanno finisce in tragedia. Muore a Benevento il 32enne aggredito. La lite in un ristorante è fermato il 27enne che ora è accusato di omicidio. Sentiamo. Non ce l'ha fatta Antonio Parrella. Il 32enne di Benevento è rimasto gravemente ferito l'altra notte in un ristorante al termine di una rissa scoppiata durante una festa di compleanno. Parrella è raggiunta in condizioni disperate per un trauma cranico all'ospedale Rummo di Benevento dove è deceduto dopo ore di agonia. Si aggrava dunque la posizione dell'aggressore Umberto Sferruzzi, 27 anni, di Benevento, fermato come indiziato dagli uomini della squadra mobile diretta da Emanuele Fattori. Per il giovane ora l'ipotesi di reato è omicidio. Nel frattempo continuano le indagini della polizia per ricostruire la dinamica della rissa sfociata in tragedia. Da quanto emerso sembrerebbe che la lite sia nata per futili motivi e degenerata anche per l'alcol. Un lavoro senza sosta quello messo in piedi dalla squadra mobile che ha sentito tutti i partecipanti alla festa. Al vaglio ci sono infatti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un opificio abusivo è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Arienzo nel Casertano. Il legale rappresentante è stato denunciato alla Procura della Repubblica per reati ambientali e connessi alla normativa sul lavoro. In particolare i finanziari della compagnia di Marcianisi hanno posto i sigilli ad un tomaificio che svolgeva l'attività in assenza della prescritta autorizzazione unica ambientale. Titolo autorizzativo imprescindibile per le piccole e medie imprese non soggette a autorizzazione integrata ambientale. All'interno dello stabilimento i finanziari hanno scoperto sette lavoratori in nero. Ancora un alterco in corsia aggredita, questa volta una dipendente dell'ospedale Ruggi di Salerno. Il servizio. È diventata quasi un'abitudine e per questo rischia di non essere più una notizia. Non è così, non può essere. È la storia dell'ennesimo alterco sfociato in aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno. La vittima, una addetta all'accettazione del pronto soccorso afferrata al collo da due donne, una delle quali incinta. La dipendente non ha reagito, non ha sporto denuncia e si è limitata soltanto a farsi medicare le ferite. Il copione lo stesso, così come identico, è stato il finale con l'intervento del personale della sicurezza e di lì a poco dei militari dell'arma dei carabinieri che hanno provveduto a rasserenare gli animi. Ma cosa è successo l'altra notte? La solita storia, una presunta disparità di trattamento tra pazienti o, per meglio dire, a familiari di pazienti, alcuni dei quali sarebbe stato concesso di entrare all'interno della sala dove si prestava soccorso ad un infortunato, ad altri no. Alcuni familiari di un anziano avevano chiesto di entrare nella stanza dove i medici stavano monitorando il paziente. Dopo ripetute insistenze, la dipendente ha concesso a questi familiari di entrare uno per volta, mentre qualche ora dopo, alla stessa richiesta avanzata alla stessa dipendente, da parenti di una donna incinta, non sarebbe stato concesso lo stesso privilegio di cui le urla, gli spintoni, il tentativo di aggressione. Tanto è bastato però per far riaccendere nuovamente la spia dell'allarme sul pronto soccorso del Ruggi d'Aragona. Margaret, cittadino della CCL, temendo una pericolosa escalation, ha chiesto maggiore rispetto per il personale, chiedendo al tempo stesso all'azienda di trovare soluzioni per arginare situazioni spiacevoli e periodiche, mentre Armando Porcelli ed Armando Pallavicino della FIALS ritengono che gli ambulatori al Ruggi registrino troppi accessi e di qui la possibile proliferazione di episodi di intolleranza. Giovanni Melillo, il nuovo capo della procura di Napoli, la decisione è stata presa a maggioranza dopo cinque mesi di discussioni in commissione al CSM e un dibattito in plenum a tratti aspro. L'ex capo di gabinetto del ministro Orlando, poi sostituto PG di Roma, andrà a dirigere la procura più grande d'Italia con 9 aggiunti e 97 sostituti, posto lasciato vacante a febbraio da Giovanni Colangelo andato in pensione. Il plenum si è spaccato preferendo alla fine Giovanni Melillo con 14 voti contro i 9 e 2 stenuti sulla procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao, che ora rimane in corsa come candidato alla procura nazionale antimafia, il cui vertice dovrà essere rinnovato il prossimo inverno. Consorzio dell'Agro Nocerino Sarnese è quasi totalmente dissolto, manca un comune all'appello. Sentiamo. Manca solo il comune di Pagani all'attuazione dell'azione di smissoria dal consorzio di Bacino Salerno 1. Con queste parole il commissario liquidatore del consorzio, dottore Fabio Siani, risponde alla nostra domanda in merito alla azione di liquidazione dell'ente che si sta attuando anche se in maniera molto lenta. Il commissario nella sua risposta fa intendere che attende la decisione del comune di Pagani, visto che già molti comuni hanno firmato l'atto di dismissione, mentre Pagani non ha ancora fatto pervenire un invito per chiudere la trattativa e porre termine al rapporto di collaborazione. La disponibilità che abbiamo manifestato oggi a San Marzano, l'abbiamo manifestata prima con Cava, Nocera, Rocca Piemonte, Corbara, Castel San Giorgio e la manifesteremo anche con il comune di Pagani. Io aspico che il comune di Pagani riorganizzi il settore in tempi brevi e ci dia la possibilità di trasferire le attività che oggi stiamo svolgendo noi a un nuovo soggetto. Ha avuto già un incontro con il sindaco di Pagani o niente? Ci sono stati diversi incontri, però chiaramente le problematiche del comune di Pagani non sono uguali a quelle del comune di San Marzano. È una città più complessa, un numero di abitanti maggiori, è una situazione un attimino più complicata, però la nostra disponibilità rimane ferma e quindi invito il comune di Pagani ad accelerare le procedure per il trasferimento dei servizi e delle funzioni. Ad appena un mese dall'insediamento cade l'amministrazione comunale di Maddaloni, retta da Andrea De Filippo. Lo strappo si è consumato ieri sera al Consiglio Comunale quando in un clima di grande tensione 13 consiglieri comunali su 24 che compongono l'assise hanno abbandonato l'aula per recarsi dal notaio a rassegnare le dimissioni. Si aspetta la decisione del prefetto che potrebbe nominare un commissario straordinario riconsegnando la gestione della città ad un funzionario. A Dragoni un corteo per non dimenticare Maria Tino raggiunta e uccisa qualche giorno fa dal compagno, una fiacolata promossa dal comune, parrocchia e diverse associazioni, presente tra gli altri l'assessora regionale alle pare opportunità Chiara Marciani. Il raduno nello spaccio antistante, la chiesa dell'Annunziata, poi è stata percorsa via Roma fino alla piazza del Pantano, via Colucci e piazzetta San Giorgio, luogo della tragedia. Poi tutti in chiesa per una veglia di preghiera per Maria, ma anche per tutte le mogli, le madri, le compagne, le fidanzate, le amiche vittime della feroce umana. Una riflessione comune sul fenomeno della violenza di genere e sui casi di femminicidio. A voi un'anticipazione, seguono immagini e interviste dopo il Tg. Perché essere qui stasera? Per tutte le donne, per Maria innanzitutto, perché le donne non devono essere maltrattate. Gli uomini non hanno diritto di maltrattare le donne. Non è giusto, Maria ha fatto una morte che non ritengo proprio giusta, Maria e tante altre donne. Per Maria? Per difendere praticamente le donne che sono maltrattate, vengono continuamente malvessate e dà una forza butale maschile che io non condivido e quindi sono qua a difendere le donne. Siamo qui stasera per dire io sono Maria, siamo qui per elevare un grido di protesta, di vicinanza alla famiglia, per cercare di fermare questa ondata indescrivibile di violenza, inaudita, ingiustificata e incontrollabile. Siamo qui per dire io sono Maria, siamo qui per lei. Lei la conosceva? No, io sono di Pietimondo, non sono di Dragoni, però comunque è una donna, è una cosa che mi appartiene. Quindi che cosa possiamo imparare da lei? Possiamo imparare che noi donne dobbiamo denunciare la prima cosa e poi essere più forti contro gli uomini perché gli uomini non devono fare queste cose. A combattere e a difenderci, purtroppo lei non ce l'ha fatta, però se iniziative come queste si ripetessero magari un giorno riusciremo a mettere fine ai femminicidi. Siamo alla pagina sportiva. Dopo due giorni di riposo successivi al ritiro di Di Maro, il Napoli ha ripreso oggi la preparazione a Castelvolturno. Gli azzurri si sono ritrovati nel pomeriggio al centro tecnico appunto del litorale Domizio. Commissione di vigilanza effettua un sopralluogo allo stadio di Benevento. Ciro Vigorito dunque quasi pronto per la prima di campionato. La gara di riscaldamento di Coppa Italia invece è prevista il 12 agosto. Sentiamo. Ancora un sopralluogo, ancora una verifica dello stato dell'arte dei lavori. La commissione di vigilanza sui lavori di pubblico spettacolo è tornata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento per un ulteriore controllo sull'avanzamento del cantiere e sembra sia quasi tutto pronto per il campionato di massima serie. Manca poco dunque all'ok definitivo per l'ampliamento del numero degli spettatori. Il primo test il prossimo 12 agosto con una partita di Coppa Italia in attesa della prima gara di campionato il 27 agosto contro il Bologna del tecnico Donadoni. Per quel giorno tutto dovrà essere a puntino. Lavori di messa in sicurezza che riguarderanno non soltanto l'impianto sportivo della città della strega ma anche l'antistadio. Previste inoltre numerose navette per evitare la stangata parcheggi messe a disposizione dall'azienda Trotta del Capoluogo. Il calendario dell'A accende dunque la voglia di calcio dei tifosi. La formazione di Marco Baroni si è ritrovata nell'urna insieme a nobili avversarie come Juventus, Inter, Milan, Roma e soprattutto Napoli. È proprio il derby in programma. Alla quarta giornata al San Paolo la gara più attesa tra i supporter dei giallorossi. E intanto il presidente degli stregoni, Oreste Vigorito, intervistato scherza sul mercato e risponde così. Sentiamo. A noi i regali ce li facciamo prima noi e poi gli allenatori hanno il problema di fargli essere dei regali preziosi perché Chisma è stato considerato uno dei migliori talenti nati dopo il 1993. Noi speriamo di portare in porta la trattativa. Con la Lazio abbiamo un buon rapporto, con l'Ottito personalmente. Bisognerà parlare molto con Minoraio, voi sapete Minoraio che tipo di manager è. Speriamo che non ci crei troppi, non dico problemi, ma difficoltà. Lei lo ha sentito? Sì, sì, io ho parlato. Gli ho parlato e lo incontriremo a breve perché era fuori Italia e adesso lo incontriremo a tra poco. Liga Pro, un nuovo difensore per lo scacchiere rosso-blu. La casertana si è assicurata le prestazioni sportive di Francesco Forte. Possente centrale di piedi destro classe 98. Lungo il suo percorso giovanile ha indossato le maglie di Avellino Paganese a Pescara e d'Atalanta. Con il Pescara ha fatto costantemente parte della prima squadra, ottenendo due convocazioni in occasione del match di Serie A. Roma-Pescara in Team Cup per Atalanta-Pescara. Era questa l'ultima notizia. Vi lascio in compagnia prima delle prigioni del tempo e poi del nostro approfondimento, l'appunto e poi con il resto della nostra programmazione. Arrivederci al prossimo Media News. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Previsioni per sabato 29 luglio 2017. Cede lievemente l'alta pressione Caronte sulle nostre regioni settentrionali con qualche veloce temporale pomeridiano. Tantissimo sole invece al centro-sud. Scopriamo dove sarà più instabile con il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord sarà in genere buono al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiora con rovesci e locali temporali sull'arco alpino e prealpino e con fenomeni impossibile estensione alle medio-alte pianure, specie quelle occidentali. Generale miglioramento entro la nottata. Spostiamoci al centro. Il tempo qui si mantiene stabile e ampiamente soleggiato con il cielo che sarà del tutto sereno sulle regioni peninsulari e anche sulla Sardegna. Al sud situazione del tutto immutata. Splendida giornata di sole e cielo limpido ovunque. I venti saranno in prevalenza deboli e variabili su tutti i bacini. Temperature in aumento, minime comprese tra i 15 e i 23 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 35 gradi al nord e anche al sud e punte di 36 gradi al centro.